Tutti navighiamo su internet, lo facciamo sempre, in ufficio, a casa da soli o con tutta la famiglia. Ma come arriva internet nelle nostre case? Arriva grazie alla rete, un vero e proprio sistema di cavi fisici che corrono sotto i nostri piedi e a volte anche sopra la nostra testa collegando le nostre abitazioni alla centrale da dove ha origine il segnale. I cavi che partono dalle centrali dislocate sul territorio sono giganteschi e contengono 2400 coppie di fili. Man mano che si avvicinano alle abitazioni vengono ripartiti in cavi più piccoli fino ad arrivare in ogni casa o ufficio con una coppia di fili. Tra le abitazioni e la centrale c'è una distanza di circa 1,5 chilometri. In un'area così piccola le famiglie raggiunte dalla rete possono essere anche migliaia. L'armadio o cabinet serve proprio a ripartire i cavi che arrivano dalla centrale per portarli a destinazione. Telecom Italia sta installando dei nuovi cavi di rete in fibra ottica il cui vantaggio principale è una capacità di trasmissione dati, voce e internet molto elevata che consente ad esempio il download simultaneo di un film in alta qualità su più device e in pochissimo tempo. Ad oggi sono stati installati 130.000 chilometri di cavi, una lunghezza che è pari a quasi 20 volte la distanza tra Roma e New York. Un grande impegno per avere più connettività per tutta la famiglia, per tutte le famiglie delle nostre città, per tutte le città d'Italia.